ciao a tutti oggi è giovedì 13 luglio 2023 volevo fare con voi un giro per quanto riguarda le more questa qua non so che varietà credo sia cesta della grandezza e sono abbastanza mature stanno maturando il problema è che c'è molto caldo e tendono a bruciarsi e le bruciature le riconoscete perché diventano bianche così vedete le more sono belle sono cresciute abbastanza le sto irrigando con il goccia a goccia ogni due giorni hanno avuto dei bei ricacci questo qua è un ricaccio di quest'anno questo qua non so se è black satin credo che sia di more ce ne sono ne stiamo raccogliendo che con la veronica ogni due giorni raccoglieremo circa tre chili poi una parte le mangiamo a colazione le altre le congeliamo per l'inverno questa qua è theodore reims con le spine spinosa molto vigorosa l'ho già portata diverse volte è un po cedula queste non sono buonissime però ne fa ne fa tante piccoline e in mezzo alle altre gli danno un buon gusto queste qua invece credo che sia non è facile da capire adesso non so se è chester o forse l'ochness adesso vediamo non vedo l'etichetta andiamo avanti queste qua questa qua sta maturando poco sulla cesta probabilmente perché sono più indietro queste qua invece credo che siano vediamo un po non c'è l'etichetta neanche qua non lo so perché conoscere così è difficile nel senso se riconosco bene conosciano i fiori questo qua tipo credo che sia l'ochness questa qua vedete che è molto avanti stanno già seccando nonostante le sto irrigando quando c'è veramente molto caldo tendono a fare vedete si sbiancano tutte e queste qua questa qua questa qua è l'ochness già scritto qua questa qua è già un po più bella però vedete questa qua ha sofferto molto si vede che non ha un grande un grande apparato radicale tendono a diventare bianche visto che c'è veramente secco questa qui nella l'ochness che già è già stata messa prima delle altre che abbiamo visto prima è già abbastanza bella questa qui si vede che anche essendo un po più riparata dalle altre è rimasta un pochino più più bella tende a tenere i frutti e non sono bruciati non ce ne sono di bruciati qua mentre da quel lato di là come abbiamo visto prima erano molto bruciati questa è una cesta perché mi ricordo che c'è l'ochness e poi ci sono tre cesta adesso le andiamo a vedere qualcuna sta già maturando sono belle sono abbastanza grandi sono piante come vedete che sono da più anni che sono qui sono cresciute bene hanno dei bei ricacci questo è la ricaccia dell'anno sono un pochino riparate e tendono a fare delle belle more anche se non sono perfettamente mature perché la mora facendo questo movimento dovrebbe staccarsi quando è matura anche questa sembra matura però se vedete dietro deve ancora maturare questi sono i ricacci sempre dell'anno che dopo quando posso quella forbice li accorcio un po' perché non servono perché in potatura invernale li andremo a tenere a 50 cm non ha senso avere dei rami da metro che poi dopo non riescono a maturare le more ne fanno un'esagerazione e poi avete visto che seccano bisogna tenerle sempre ben potate le more in modo che ne facciano poche e che riescono a maturare che se non altrimenti è un problema qui abbiamo un po' di lamponi anche ma ormai sono ormai non producono più c'è qualcosina ma poca roba questa qui la parte interna che abbiamo visto prima anche i lamponi non c'è praticamente niente ce ne sono appena qualcuno che tipo questi adesso faremo un giro dopo di però sono molto buoni perché sono belli maturi adesso vediamo una parte l'altra parte qui invece c'è triple crown che sono queste si vedono perché sono più allungate e poi ne fanno poche rispetto alle altre non ha quei grappoloni incredibili ha dei grappolini più piccoli e sembra più fine questa qua è una cesta ne ha un'esagerazione due cesta ci sono una no una scusate questa è cesta questo qua invece sono le credo che siano le tonfri che vengono molto grandi poi ne ha un sacco di solito vengono anche più grandi adesso ve ne faccio vedere qualcuno questa qua tipo queste qua sono enormi da tanto che sono mature quando si toccano cadono infatti oggi le dobbiamo raccogliere questa qua si è bruciata ha una bella grandezza sono molto buone poi si fa la svelta a raccoglierle poi vedete i ricacci dell'anno questa qui una varietà secondo me la migliore che ho guardate anche questa guardate che morone poi sono belle mature buoni poi maturano scalarmente a parte che qualcuno ha bruciata sono belle qui sono un po troppo branciate dai cachi l'avevo messo perché non sapevo più dove metterne può decidono più lentamente però qua si andano a bruciare molto meno essendo riparati dal cachi tendono a rimanere a non bruciarsi e questa è la parte interna delle more che abbiamo visto all'inizio anche qua ce ne sono una valanga anche troppe vi faccio vedere un attimo l'altra parte di là questa qui è una lottai ma le ha già fatte tutte le abbiamo già raccolte quella lina theodore rheims o come si chiama quelle che abbiamo visto all'inizio piccoline acidule che ne fa tante poi qui abbiamo delle ton free tutte senza spine sono questa qui è una tupi si chiama una moro tupi con le spine però ne ha pochissime poi un po stanno seccando perché la pianta è giovane questa qui è una ton free bella grande questa è una di quelle vigorose che ho guardate che ricacce e vedete anche i frutti sono belli sono le cimici sopra però finché vanno qua non abbiamo paura di amarsi che non mi distruggano i pomodori mentre i lamponi ormai come dicevo sono andati anche l'uva spina abbiamo raccolta il mirtillo siberiano anche questo non è niente i lamponi stanno seccando e rimarranno solamente i ricacci di quest'anno e sui rifiorenti andranno a rifiorire come dice il nome tra un mesetto adesso non guardiamo se ne vediamo qualcuno questo qua per dire un rifiorente ha già sui lamponi non è il massimo che li abbia in questo momento perché essendoci così tanto secco eccetera è problematica la situazione sarebbe meglio che andassero un pochino più avanti magari a settembre così che c'è un po' più più fresco piove di più e tendono a venire più belle eccetera qui c'è un'altra pianta di credo che sia una torfria anche questa l'avevo legata non tanto bene infatti devo ripassarlo dopo la rilevo si vede che si è rotta la corda qui c'è un pochino che si è rotta la corda questi qua sono sempre torfri vedete ce ne sono un sacco perché dobbiamo raccoglierle e questi qua sono i ricacci della Theodore Reims che abbiamo visto prima che sta venendo di qua bisogna sempre fare attenzione con le molte nelle potate perché dove toccano terra loro ricacciano l'anno scorso poi le ho tolte con Fabio a vicino a Natale le avevano tolte di queste non so quante qua perché lui le appena tocca radica e vengono nuove piantine queste qua con le spine sono infestanti tendo a toglierle poi dopo ne ho tante piantine là intorno nel perimetro ma sono piccole non perdo neanche tempo a farvele vedere ci tenevo a farvi vedere un po' queste qua qua ci sono dei lamponi anche poi c'è da un filare nuovo là che non mi avevo neanche fatto vedere in questo video ma l'avevo già fatto vedere negli altri e poi ne ho nell'altro orto comunque non stiamo andando male con le more quest'anno se mollasse appena il caldo si riesce ad avere un discreto raccolto per l'autoconsumo riusciamo a congelarle, metterle in frigo, in freezer e poi così quest'inverno ne abbiamo mentre i lamponi li abbiamo già mangiati tutti a colazione ne sono ne abbiamo raccolti siamo contenti e nient'altro volevo solo farvi vedere un po' l'aggiornamento dei piccoli frutti perché chi li vuole mettere così ha un'idea di delle varie tempistiche come crescono quando vanno in produzione si fa un'idea e nient'altro vi ringrazio ciao a tutti e alla prossima